Ben trovati le prime pagine dei giornali, arrivano ovviamente nel corso della sera mentre siamo in diretta. Ma a proposito della questione autonomie, questo è uno quotidiano del Sud, il quotidiano di Puglio e Basilicata che titola le mine vaganti, riprendendo i due governatori più attivi ovviamente per quanto riguarda l'autonomia che sono Fontana e Zaia, vedete Fontana e Zaia che stanno aizzando Salvini sull'autonomia che spacca il paese. Non sta più insieme questo paese, quindi io credo che l'autonomia, portare la responsabilità verso i territori, verso neanche tanto le regioni, perché le regioni rischiano di avere tutti i difetti dello Stato centrale e non l'economia riscata. Però soprattutto verso le città, verso i comuni credo che sia una strada intelligente e faccia bene anche al mezzogiorno. Poi ovviamente dipende dalle modalità operative. Probabilmente, come hai detto tu, in sede di autonomia verrà trovata comunque una soluzione, una quadra, mi sembra che il dialogo sia possibile.